Grabinieri del Rosso con il supporto dei comandi provinciali di Torino, Ancona, Cagliari, Nuoro, Savona e Ragusa hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere su richiesta della direzione distrettuale antimafia nei confronti di nove indagati ritenuti responsabili di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e per numerosi episodi di produzione, traffico e detenzione di droga con l'aggramante della trasnazionalità documentato un traffico internazionale di cocaina, asces e marijuana tra la Spagna e l'Italia